beate a voi che siete pronti allora innanzitutto oggi continuiamo con l'ultima parte del credo, spero, del percorso per fare il nostro modello su Endymet andiamo a vedere, innanzitutto io approfitto di un piccolo problema sorto questa mattina, ringrazio Filippo per questa cosa qua spero che voi l'abbiate già risolto, altri l'abbiano già risolto in ogni caso il problema era questo quando mi trovo a disegnare all'interno di Spaces i materiali del terreno, io come faccio a capire quali materiali ho in quella posizione, in quella certa posizione in quanto, che succede? Se io vado praticamente su Solent Surface vedo che mi si oscura tutto quanto, o meglio mi si colora tutto quanto del materiale in questione per esempio può essere la qualunque qui però io come faccio a capire rispetto anche agli edifici che ho piuttosto che ad altro, come faccio a capire quale materiale va messo in quel punto? allora, la prima cosa che mi è venuta in mente da consigliare è inserire giustamente la bitmap, io adesso ne prendo una casual che avevo una delle mappe che avevo precedentemente messo per esempio mappa e anche caricata, questa qui, se vado per esempio su building effettivamente sì la vedo la mappa e quindi da questa qua posso capire quali materiali devo andare a disegnare ma laddove io mi trovo su Solent Surface mi si copre tutto soluzione semplice, c'è una piccola spunta qui sulla sinistra display with surface color se la tolgo praticamente mi ricompare a schermo la mappa che avevo scelto prima e quindi con tanta pazienza ovviamente posso continuare a colorare i quadratini nel modo migliore possibile una visualizzazione intermittente della mappa può aiutarmi metto e tolgo, metto e tolgo fin quando non l'ho riempita tutta quanta con i materiali adatti vi dico questa cosa perché vi ricordo che per far partire il modello del macrogruppo questi almeno sono gli unici materiali necessari quindi per quanto riguarda ogni edificio ci accontentiamo del materiale standard 00 per tutti gli altri almeno questi qui cerchiamo di definirli ok detto ciò l'altra volta eravamo rimasti alla visualizzazione dei dati con Leonardo io vado a riprendere qui ecco no aspettate oddio no non mi puoi usare il computer adesso no no aspetta fermi fermi tutti mi stanno usando il computer sopra chiediamo gentilmente la no no che ti chiudi oh ti devo parlare ti devo parlare Enrico gentilmente mi fai usare il pc per la lezione vediamo che ci risponde il buon Enrico purtroppo ho i dati qui e non sul mio pc dai Enrico dai si buono con noi vabbè nel frattempo che Enrico non ci dice niente andiamo avanti allora dicevamo scusate l'interruzione andiamo a riaprire EnvyMet andiamo a aprire Leonardo l'altra volta eravamo fermi sul fatto che io non vi ho potuto far vedere i dati di Atmosphere che sono i dati che escono dal run dal primo run che fate questa volta credo di aver risolto quel problema dell'altra e quindi andiamo a caricare una mappa oh se ne è andato proprio Enrico scusami Enrico non volevo essere così maleducato con te però select file allora nel selezionare il file io vado a riprendere il mio progetto che in questo caso è Ancona entro scusatemi Ascoli perdonatemi dovreste avere diciamo i file all'interno di una sottocartella chiamata con il nome del progetto underscore output io siccome questo qui prima li ho caricati su drive quello che ho dovuto riscaricare non ho fatto caso a questo diciamo a questo particolare in ogni caso andremo a trovare un sacco di cartelle tra cui Atmosphere io in questo caso appunto mi sono riscaricato solo la cartella Atmosphere giusto per l'occasione visto che erano circa circa 30 giga di dati voi avete meno dati di me per fortuna vostra una volta aperto quale file devo aprire? In realtà non è necessario conoscere quale file aprire perché che fa lui? Vede i file e vede cioè scusate capisce quale cartella andiamo a leggere e va a vedere tutti i file di quella cartella e noi ce ne accorgiamo subito io ne prendo uno a casaccio là dentro nella lista di file che ho e vado a scoprire che qui lateralmente lui mi ha caricato tutti gli orari che trova dentro dentro il programma cioè dentro quella cartella sono tutti gli orari che appunto è riuscito a calcolare precedentemente e sono questi appunti in azzurro lo vedo con questi su questi rettangolini azzurri quelli in grigio sono quelli che non non rientrano all'interno del calcolo un doppio clic su uno qualunque di questi orari dirà al programma guarda vammi andare a vedere quelli del 23.6.2017 alle ore 8 piuttosto che del 25 alle ore 8 e così via io adesso ne carico uno casual non vedo nulla già l'altra volta ce ne eravamo accorti di questa cosa qui perché io devo estrarre la mappa lui non gli ho chiesto non gli ho detto ancora quale dato estrarmi andiamo su 2D map e andiamo a vedere questo che effettivamente l'altra volta non avevamo visto fino in fondo allora la cartella atmosphere mi riesce a dare un sacco un sacco un sacco di informazioni utili tra queste la temperatura con un po' di pazienza e qualche diottria che non ho perché qui mi si vede tutto piccolino a me cercherò air temperature air temperature voi lo vedete bene scusate lassù riuscite a leggere qua? no ok vi potete fidare di me oppure possiamo fare un piccolo passo avanti scusate torniamo su una risoluzione un po' più umana per i nostri schermi opzioni schermo anzi no scusate si va da qua visualizzazione visualizzazione sarà questo risoluzione dello schermo 1366x768 non è quella nativa ma per me ci accontentiamo scusate ok va meglio adesso? riuscite a leggere qui? ok caricato air temperature io posso giustamente però con questa risoluzione ho altri problemi io ma non è grave posso estrarre appunto il dato a una certa altezza questo l'avevamo già visto l'altra volta prendiamo la vista bidimensionale dall'alto quindi sugli assi XY e inseriamo la spunta sul follow terrain qui avevamo un grosso dislivello siamo ad Ascoli con questi con questi dati che andiamo a vedere andiamo a vedere di che stiamo parlando alzandoci per esempio all'altezza la quota 9 metri estraiamo il 2D e fra qualche istante scopriamo che temperatura c'era ad Ascoli il 24 non mi ricordo il 24-7 2017 ecco qui allora lateralmente come si fa a richiudere tutto questo? me lo porto qua giù ok lateralmente io vado a scoprire che c'è una leggenda questa leggenda mi dice che il blu scuro va unter 18,12 gradi lo conoscete il tedesco? due parole dobbiamo conoscere il tedesco unter e uber dove unter è sotto si intende sotto i 18 gradi e 12 per uber si intende 19 e 44 non so se la pronuncia è corretta però per ora ci accontentiamo e la leggenda è un po' al contrario rispetto a quella che magari vi immaginate voi perché appunto il valore più basso sta in alto il valore più alto sta in basso però adesso scopriamo pure se possiamo invertire no in realtà non è facile invertirla però possiamo cambiare i colori possiamo gestirla queste 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 leggende come si fanno a gestire le leggende? allora da quest'altro lato sul pannello di sinistra quindi non il data navigator che rimettiamo qui sul data navigator abbiamo a disposizione diversi layer questi layer possono essere i layer che fanno riferimento al data layer cioè quello che ho caricato prima fateci caso la voce data qui da questo lato qua piuttosto che i contour i simboli i vettori e altro per primo andiamo a valutare appunto di modificare i data quindi andiamo sul data layer setting e vi dico una cosa col tasto destro scusate col tasto sinistro io seleziono selezioni il layer col tasto destro invece modifico la visibilità di questo col tasto destro diventa il pallino diventa rosso o verde appunto a seconda se è visibile o no lo rendiamo visibile come già lo era in realtà e andiamo a vedere che impostazioni ci da qui facciamo scorrere allora sappiamo che il data layer setting mi darà delle informazioni ma io voglio andare a gestire la sua leggenda e quindi andiamo sul data layer legend allora le opzioni sono tante però vi segnalo me ne segnalo giusto alcune la più divertente è quella di inserire floating cioè una sorta di smussatura tra i colori non abbiamo quindi un'isopleta definita per colori netti ma per sfumature di colore può essere più utile o meno utile a seconda del diciamo di quello che volete rappresentare è a voi la scelta se inserire un metodo o l'altro possiamo scegliere una palette di colori diversa per esempio se questa non ci sta simpatica possiamo andare a prendere questa che va dal dal nero diciamo così fino al bianco passando per il verde piuttosto che un'altra paletta a seconda di quella che magari c'è più simpatica potremmo volendo anche inserire dei colori personalizzati con un po' di pazienza in quest'altro pannello non lo spieghiamo perché tanto di palette ce ne sono ben d'onde e quindi ci accontentiamo se possiamo oppure se avete voglia di sperimentare lascio a voi che cos'altro importante allora se io chiudo abbasso color mapping si è bloccato tutto ecco qua se abbasso color mapping compaiono altre cose abbasso anche quest'altra legend setting e ho a disposizione la visualizzazione completa per il legend classis legend classis sarà il vostro tormento scherzo no perché sarà il vostro tormento perché qui purtroppo dobbiamo fare un po' di calcoli non possiamo andare in automatico la spunta autofit purtroppo non ci è d'aiuto sapete perché autofit che fa gestisce in automatico all'interno della mappa la temperatura minima la temperatura massima e crea il gradiente vi colorerà la mappa secondo i valori che ha trovato lui che sono 17 gradi 96 e 19 44 come vediamo da st'altro lato e quindi scala tutta la mappa su questi due valori però vi rendete conto che nelle varie diverse ore della giornata i valori cambieranno molto tra minimo e massimo e quindi se io volessi confrontare le 8 di mattina con le 11 di mattina piuttosto che con le 3 di pomeriggio avendo mappe con scale diverse io devo fare una faticaccia enorme per capire se migliora o peggiora la situazione oppure qual è l'andamento in generale della condizione che vado a valutare quindi sarebbe auspicabile avere almeno un diciamo un fondo scala pari che significa questo che io non devo mettere 0 gradi e 150 gradi altrimenti non comunque non avrò un valore apprezzabile in quanto la scala di colori tutto sommato è quella però dovrò cercare il minimo assoluto e il massimo assoluto all'interno di tutte quante le mappe che ho a disposizione per esempio alle 8 di mattina avrò una minima di 8 gradi e una massima di 15 gradi e quindi 8 per questi due sono i valori minimo e massimo che ho confrontandolo con le 11 di mattina dove la massima diventa 20 gradi e la minima 15 io capisco che la minima minima è la minima delle 8 di mattina e quindi 8 gradi la massima massima sarà la massima delle delle 11 di mattina quindi 20 gradi e come faccio a impostarlo tutto questo purtroppo non è proprio intuitivissimo innanzitutto devo togliere la spunta su autofit quindi devo andare a fare un po' di conticini per avere i valori gestiti tra l'8 e il 20 è un caso che adesso non è proprio di questa mappa però per capirci la prima cosa che devo fare è il first il first value in legend abbiamo detto la minima è 8 gradi benissimo ci inserisco questa update vedo che va da 8 gradi fino a 9 e 49 perché 9 e 49 perché adesso lui arriva con 10 step partendo da 8 con 10 step dal passo di 1 di 0,165 beh 0,165 per 10 per 10 ah sì scusate per 10 più 8 dove arriva più 1 punto 65 scusate arriviamo a 9,65 appunto qui fa conta 9 e 49 però è quello là il conteggio che stiamo facendo quindi per arrivare a 20 gradi in 10 step io devo fare questo conticino qua 20 gradi meno 8 la massima meno la minima abbiamo 12 gradi da dividere in 10 step diviso 10 il mio step di S di 1 grado e 2 non di 0,65 e qui ho anche fatto un piccolo errore in realtà perché non siamo arrivati a 20 siamo arrivati a 18,80 dove abbiamo fatto l'errore allora io adesso a memoria non mi ricordo però dobbiamo dividere non per 10 step ma o per 9 o per 11 step cioè per 1 in più o per 1 in meno adesso lo scopriamo insieme a memoria non lo ricordo perdonatemi abbiamo quindi 12 che è 20 meno meno 8 diviso 11 se andassimo a inserire 1,09 secondo me è peggio quindi facciamo diviso 9 12 diviso 9 1,33 andiamo a fare update perché no ah sì arriviamo a 19,97 con le dovute approssimazioni sono 20 gradi vedete ovviamente che in questo range che è sbagliato per questa isopleta non abbiamo una caratterizzazione reale del dato non riusciamo a capirci niente è tutto sul rosa sono tutti 18 gradi quindi la prima fase ovviamente va in autofit valutiamo quali sono i valori in autofit da da considerare come minimo e massimo su tutte quante le mappe e successivamente quindi scopriamo qual è la leggenda da tenerci io spero di essere stato chiaro su questa cosa però mi rendo conto anche dalle vostre facce che forse qualcosa qualche domanda ce l'avete quindi nel caso alzate la mano io cercherò di rispondervi sperando di non confondervi ancora di più di quanto non abbia già fatto tutto ok tutto chiaro dai un riscontro qualunque anche un vaffalleggio ditemi però niente proprio uno sbadiglio nulla vabbè dai ho capito ho capito allora oltre oltre il dato della temperatura andiamo a vedere andiamo a vedere come inserire il dato vettoriale della direzione del vento che anche questo l'altra volta non abbiamo potuto mettere il dato della direzione del vento è importante quindi per capire che velocità ma soprattutto che direzione ha il vento allora per aggiungere questo dobbiamo aggiungere qualcosa nel data navigator alla voce vector cosa dobbiamo mettere in realtà non dobbiamo mettere niente più e niente meno se abbiamo già caricato l'air temperature perché come vedete lui ha già impostato sugli assi x, y e z flow u flow v e flow w che sono altro non sono che tre dati già inseriti nella lista che avevamo già visto prima lui li va a prendere di default però perché non li vediamo non li vediamo perché il vector layer è spento andiamo ad accendere con il tasto destro e magicamente arrivano ora io vado a zoomare con questo eccolo qua con questo tastino qui in alto e vado a vedere che effettivamente ci sono tante 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 frecce e che non sono soprattutto monodirezionali se avessi sbagliato qualcosa quindi avessi messo per caso qui per esempio avessi voluto mettere wind speed su tutti e tre guardate che cosa succedeva una volta estratto succedeva che il mio dato ecco le mie frecce si sembravano il vento ma andavano tutte da una parte perché era un solo dato moltiplicato su tutte le frecce non è questo quello che volevamo avere ma noi volevamo il flow il flusso quindi ritorniamo alle impostazioni di default flu UUV no UUV W restraiamo e vediamo appunto come il il nostro il nostro vento è conformato all'interno del della nostra area alle diverse altezze. Una cosa, io queste frecce non le vedo sinceramente, come posso fare per modificarle? Ok, tasto sinistro, non tasto destro, sopra Vector Setting e vado a valutare un po' di dati che mi modificano le dimensioni piuttosto che la distribuzione all'interno dello spazio di queste frecce. Allora, il length scale vector è un dato che se aumento in realtà va a diminuire la grandezza, per esempio se io lo faccio diventare di 1, io mi aspetto che è tutto più grande, invece su Update vedrò che è tutto più scalato, quindi per ringrandire diciamo così, la grandezza delle frecce diciamo, invece che 0.2 andrò a mettere 0.02, quindi io scalo di 10 volte tutto quanto. Clicco su Update e vedo che è effettivamente un po' esagerato, no? Allora troviamo una via di mezzo, da 0.2 diventa 0.5, ancora troppo, 0.8, fino a quando non trovo il valore che più mi piace, che riesco a vedere soprattutto. Poi un'altra informazione, cioè un altro problema è che c'è tanta informazione del vento, effettivamente io riesco a capire che forma questo vento anche con meno frecce, quindi abbiamo un po' troppa ridondanza diciamo così del dato e possiamo sfruttare quindi un po' di valori, di modifiche dei valori, per esempio questo 10.000, se ne mettessimo 10 in meno, il 10%, abbiamo, no ancora tante, 100, no, scusatemi lo vedo aumentare solo se, lo vedo diminuire solo se effettivamente inserisco la spunta su Draw Random Vector, quindi non orientati secondo la griglia, non disposti secondo la griglia ma in modo casual. Mettiamo 1000 vettori, 1000 e poco, mettiamo 5000, che è comunque la metà dell'originale e diciamo che possono andare. Lateralmente però io vorrei vedere una cosa che attualmente non c'è, ovvero una, diciamo una leggenda riferita alla velocità del vento. Ovviamente la lunghezza del vettore mi indica che velocità ha quel vettore in quel dato punto, quindi sono sempre vettore applicati, che voi sapete bene, indicano più informazioni con un solo simbolo grafico, quindi indicano la direzione, il verso e l'intensità con la propria lunghezza. Quanto effettivamente valgono questi valori? Devo andare su Legend Vector e attivare con Show la lunghezza del vettore. Update, ecco qua, e vengo a scoprire lateralmente che i miei vettori corti corti valgono 0,80 fino a quelli un po' più lunghi che valgono fino a 4 metri al secondo. Ora c'è una piccola parentesi, qualcuno forse lo noterà anche dopo. Se io adesso mantengo uno Scale Vector di 0,08 ho questa leggenda, ma se rimposto i valori originali di 0,2 e metto Update, vengo a scoprire che i vettori corti in realtà sono 2 metri al secondo. Io non l'ho mai capita sinceramente questa cosa, nel senso, quindi vi chiedo un attimo anche di voi di fare qualche test. Per non sapere né leggere né scrivere ho fatto sempre fare una cosa ai ragazzi, mantenere il Lens Scale Vector a 0,2, quello di default, e valutare con quello qual è la velocità del vento in quella posizione. In ogni caso potremmo avere una controprova. Potremmo invece che caricare la velocità del vento, scusate, la temperatura dell'aria, potremmo caricare la velocità del vento come mappa isopleta e quindi fare una valutazione se è corretto questo 0,2 o se varia al variare della lunghezza dello Scale Vector. Secondo me comunque no e dobbiamo ritornare sempre a questa. Andiamolo a fare subito, tutti insieme, caricando, se lo ritrovo, eccolo qua, nel Data Navigator, invece che l'Air Temperature al posto di data, andiamo a caricare Windspin in metri al secondo. Riestraiamo la mappa. Ecco qua. Allora, troviamo una da, per esempio, questa qui sotto la mia freccia potrebbe essere 4 metri al secondo. Il dato da questa parte qua mi dice che il verde è intorno, se ne è andato, il verde è intorno, scusate, è intorno ai 4 metri al secondo, no, 1,70, che verdino era? Più o meno questo verdino qua, eh, sì, è quasi 4 metri al secondo, 3,41. Quindi, come vi dicevo, dovrebbe corrispondere solo, esclusivamente, allo Scale Vector 0,2, quindi quello di default. Potrebbe essere quindi comodo, a livello visivo, aumentare la scala, ma se vogliamo sapere il vero valore, apprezzarne quindi l'intensità, dobbiamo tornare allo Scale che il Vector originale. Quindi fate caso a questa cosa qui. Un'altra cosa simpatica che si può avere dei vettori, se vado a ricaricare velocemente l'Air Temperature, è ottenere vettori colorati. Vado a caricare di nuovo l'Air Temperature. Ecco qui. Abbiamo dei vettori colorati. Come li vogliamo colorare? Magari con l'Air Temperature. Quindi capiamo quel vento, oltre che intensità, che direzione ha, ma anche se è caldo o se è freddo. Per farlo, ovviamente possiamo spegnere il Data Layer Setting e andare a colorare con Use Data Layer Color, quindi con questa spunta, i vettori. Ora, con la palette di colori che ho inserito, non so se riuscite a vederli bene, ma questi vettori appunto prendono una certa connotazione colorata. Qui apro una parentesi. Sarebbe bello che voi non usiate direttamente queste mappe belle e pronte. Dite voi perché? Specialmente nei, diciamo così, nei corsi precedenti, nei corsi degli anni passati, è stato molto formativo e istruttivo per gli studenti cercare di reinterpretare queste mappe. Quindi prendere informazioni dalla mappa, che ovviamente ci dà un dato concreto, ma rielaborarla e reinserirla, per esempio, all'interno del vostro progetto Calandola o con un copia e incolla, con una photoshopata, come volete voi, all'interno del vostro progetto. Quindi sovrapporla in qualche maniera ai dati, scusate, alla geometria non cubettosa che deriva da EnvyMet, ma dalla geometria reale. Anche per far capire ancora di più, per dare ancora di più una connotazione al vostro progetto, per capire se sta funzionando, se non sta funzionando, se può migliorare e così via, diciamo. Quindi vi chiedo comunque di estrarre queste mappe che tra l'altro si esportano con un export map da questa parte qui, piuttosto che stampandole con un print map, creando quindi un pdf, poi vedrete come. Vi lascio provare, in quanto è veramente semplice, credo che però abbiate bisogno di una stampante pdf e su questo vi consiglio, così al volo, cute pdf che trovate, gratuita e facilmente scaricabile da qui. vediamo un browser più libero che ho, quale può essere, per esempio questo. Ok, vi consiglio di andare a scaricare quindi una stampante pdf andando su ninite.com, lo cerchiamo su google prima. È tutto lento oggi. Ok, qualcuno di voi già l'ha visto questo sito, Ernesto mi scrive. Ciao Ernesto. Va bene, con le notifiche, benissimo. Andiamo su, andiamo su da qui, ecco, abbiamo una sorta di lista della spesa. Facciamo check su cute pdf, scarichiamo il nostro ninite, non so pronunciarlo però, all'inglese sarà diverso. Lo scarichiamo. Una volta scaricato facciamo partire l'esecutibile, ci sarà un'installazione silenziosa che ci installerà una stampante pdf all'interno del nostro computer. Adesso non lo faccio partire l'installer, però non è nulla di complicato, tant'è che non vi chiede neanche di andare avanti, ma si accontenta di installarsi da solo in modo silenzioso. Una volta installata questa, una stampante 3D ve la ritroverete qui all'interno della lista delle vostre stampanti. Quindi andiamola a cercare, in questo caso facciamo finta che sia una qualunque HP che abbiamo qua installata, diamo l'ok e andiamo a fare una stampa sia in modalità vettoriale che in modalità bitmap a seconda delle vostre esigenze. Una modalità vettoriale sarà più comoda, specialmente se dovrete editare i colori o altro. Poi vedrete, fate un po' di prove voi. Detto tutto ciò, estratte tutte le mappe di cui abbiamo bisogno per la temperatura piuttosto che per i flussi del vento, a noi quello che interessa in tutto ciò è capire se le persone che abiteranno i nostri spazi, quindi che usufruiranno dei nostri progetti, staranno bene dal punto di vista del comfort. Per fare ciò, nelle vecchissime versioni avevamo già da subito il valore del PMV, che però veniva calcolato quindi insieme a tutto il resto dell'atmosphere e altro. Dalla versione 4 in poi viene inserito un tool simpatico che si chiama Biomet, che ritroviamo, aprendo il quartier generale di EnvyMet, ritroviamo alla voce, ecco, EnvyMet 4, D4, Biomet. Questo è un piccolo tool in grado appunto di generare una mappa del PMV, cioè del predicted minvote, riferita ad alcune condizioni particolari che andiamo a inserire e ne possono essere un'infinità di condizioni. Allora, lui ha bisogno di mangiare, quindi in input, i dati dell'atmosphere. Andiamo a vedere dove stanno. Allora, io ho il mio workspace all'interno di C, EnvyMet Project, Ascoli, Atmosphere, ecco qua, ci clicco due volte, compaiono gli stessi quadratini che avevamo visto in precedenza su Leonardo. Scelgo di generare il mio PMV alle 10 di mattina del 28.06.2017. Doppio clic, ho da inserire una spunta, Calculate Everywhere, per esempio, in modo tale che lui me lo calcolerà a tutte le altezze, altrimenti posso decidere di calcolarlo. Se so che tanto i miei, diciamo, gli esseri umani che vivranno nel mio spazio non volano e quindi a 150 metri di quota non mi interessa calcolare il PMV, quindi posso evitare di fare calcoli inutili e fermarmi, diciamo, a quota terreno, piuttosto che quella quota che preferisco io. In questo caso andiamo su Calcolette Everywhere e devo andare a impostare qui dei parametri. Però prima di proseguire, piccola prova del 9, dopo che avete fatto girare il calcolo e volete calcolare i vostri dati, cercate di aprire Atmosphere, vedete che il, diciamo, non vi carica nessun dato, non allarmatevi, il vostro computer non funziona. Scherzo. No, c'è successo l'anno scorso, veramente, abbiamo, c'è stato un povero ragazzo che per tre volte ha fatto partire il suo, il suo calcolo sul suo computer, avevamo visto insieme tutte quante le procedure erano apparentemente tutte corrette. Non è servito altro che prendere il suo progetto, copi e incollarlo sul progetto del suo compagno, far rimandare il calcolo e magicamente il computer ha sputato fuori dei dati leggibili. Quindi non mi chiedete il perché, ritorniamo sempre sul fatto che Handymet purtroppo non è una scienza esatta e se vi dovesse succedere una cosa del genere, ed è per questo che vi chiedevo di valutare almeno un'ora prima di tutto, prima di far mandare un running completo, vedere se quest'ora viene riletta dai vari tool Biomet piuttosto che quell'altro che abbiamo visto prima di Leonardo, se non va bene, don't worry, cerchiamo una soluzione alternativa prima di aspettare settimane e settimane per il calcolo. Scusate, chiusa la parentesi, ritorniamo ai dati personali da dover inserire. Allora, voi sapete che se io sono un uomo, se io sono una donna, se io sono un giovane, se io sono un bambino, se io sono un vecchio, un anziano, scusate, ho un metabolismo diverso. Soprattutto se io sono vestito pesante, se io sono vestito leggero, se io mi trovo in una condizione estiva, se io mi trovo in una condizione invernale. Quindi capite che abbiamo un'immensità di dati da dover fornire al nostro tool per cercare di capire se quella persona, se starò bene all'interno del progetto oppure no. Facciamo un caso tipo, io ho un asilo, voglio che all'interno del cortile del mio asilo, perché qui stiamo parlando comunque di comfort outdoor, i miei bambini vivono, diciamo, una condizione agiata. Allora, che faccio? Vado a valutare, non per gli anziani, non me ne importa della maestra, non me ne importa di nulla, in realtà me ne dovrebbe importare, me ne importa all'inizio per i 28 bambini che stanno nella classe, che devono andare a fare attività recreativa all'esterno. Imposto all'asilo un'età massima di 5 anni, tra maschio e femmina a quell'età in realtà non cambia moltissimo, dico che questi bambini sono alti 90 cm, 1 metro, ok, e che pesano, quanto pesano i bambini a quell'età? 30 kg esagerando? Clicco, no, devono essere, ok, devono essere alti 1 metro e 40. Abbiamo dei bambini altissimi, dei giganti, purtroppo qui siamo vincolati, diciamo che, 41, 1000, ok, 1 metro e 41 l'ha accettato. Abbiamo dei bambini vatussi, cliccando su questo tastino anonimo, ha ricalcolato il valore del basal rate, non vi ho detto una cosa, non vi ho detto se questi bambini sono vestiti con un montone, uno scafandro impermeabile, quindi con il clothing value normalizzato di 1, quindi pesantissimo, potrebbero andare al polo nord, oppure sono vestiti in una maniera più leggera, con uno 0,3 piuttosto che uno 0,4, quindi con pantaloncini e maglietta. Nell'andare a calcolare questo, lui mi va a rivalutare il basal rate. Riproviamo con 0,1. No, non me lo va a valutare più, è sempre lo solito basal rate. Non ha bisogno solo del, diciamo, del metabolismo basale, ma ha bisogno anche del metabolismo dato dal lavoro che fanno. Molto rapidamente si può calcolare questo in base alla velocità che hanno questi bambini durante una camminata, piuttosto che se sono sedentari mettiamo per esempio 0. Non mi fa inserire dati. 0, ok. Vado a valutare con questo tastino anonimo, lui mi va a rivalutare un work metabolism in watt di 42. Se invece vanno a 2 metri al secondo, una bella corsetta, 200 no, una bella corsona, scusate, diciamo a 1.5, 1.5, eccolo qua, mi fa 114 watt al metro, watt, scusate, non sono watt al metro. Quando sono felice di tutti questi miei dati, do l'ok e semplicemente vado a fare calculate PMV PPD. Ora, il PMV è un dato che normalizzato dovrebbe andare, non si dice normalizzato, però diciamo dovrebbe andare su una scala dal meno 3 al più 3. Qui vedremo che potrebbe anche sballare da questa scala. In ogni caso, il nostro obiettivo è raggiungere lo 0, avvicinarci il più possibile allo 0 che il comfort. Andiamo a fare il calcolo, potrebbe rimetterci diverso tempo. In ogni caso, diciamo che per ora, come nei migliori, blocco tutto, come nei migliori programmi di cucina, noi abbiamo già fatto questo calcolo e lo andiamo a ricaricare, l'abbiamo già visto in realtà anche la volta precedente. Andiamo su file setting A, il B non mi interessa per ora, andiamo a fare select file, non vado a caricare il contenuto di Atmosphere, ma vado a caricare il contenuto della cartella Biomet, che laddove non era presente, adesso comparirà dopo aver fatto quel calcolo. PMV abbiamo un dato solo, quindi capite anche che il PMV in realtà va calcolato in tutti gli orari che mi interessano. E in che orari mi interessano? Ennesima parentesi. In tutti gli orari, diciamo così, che viene utilizzato il nostro progetto. Un asilo a mezzanotte non ha senso calcolare il PMV di un asilo a mezzanotte, avrà senso piuttosto calcolare però il PMV a mezzanotte di una piazza dove ci sono magari dei locali, a seconda della vostra esigenza, quindi valutate. E quanti PMV devo calcolare? Quanti ve ne servono? Nel senso, se io ho il mio range di orario di utilizzo dalle 8 di mattina fino alle 8 di sera, non posso ovviamente calcolare tutti, quanti PMV per tutti, per maschi, per femmine, per grandi, per bambini, ma andrò a calcolare, diciamo, a campione, alle 8 di mattina, a mezzogiorno, alle 3 di pomeriggio, creando quindi una sorta di quadro riassuntivo, campionario, del mio PMV. Vado a cliccare quindi due volte su l'orario che voglio valutare, estrarrò la mappa, a questo punto su data dovrò inserire PMV piuttosto che PPD e per PMV appunto si indica un dato che va da più 3 a meno 3 o comunque sulla scala minima massima dove lo 0 è comunque il comfort, mentre PPD è l'indice di comfort percentuale, ovvero stanno bene al 10% delle persone, stanno bene il 30% delle persone, stanno bene il 100% delle persone, obiettivo raggiunto. Estraggo in questo caso il PPD, non vedo più nulla, perché? Perché non ho attivato il data layer setting, vado a spegnere il vector e vado a vedere la mia mappa, la nuova isopleta, che a questo punto non varrà espressa in gradi centigradi come precedentemente, ma varrà espressa in percentuale. Io quindi vado a vedere, sempre secondo i dati che avevo già inserito rispetto al colore della mappa, che qui stanno maluccio, ma qui stanno un po' meglio dove c'è il fucsia, ma non stanno benissimo, stanno al 40%, il 40% delle persone stanno bene, non tutti. Quindi è anche utile capire a livello statistico quante persone effettivamente stanno bene, cosa che il PMV magari, che adesso andiamo a valutare, è più difficile da interpretare. Quindi vado a caricare questo PMV, Extract 2D, e vado a vedere che nella stessa posizione, più o meno dove stava il violetto, in realtà, no, non stanno proprio bene. Secondo quello che dice lui, stanno meglio vicino dove sta il giallo, tra il giallo e il bianco. Il bianco non lo vedo, effettivamente, però il giallo sì. Ci vuole, purtroppo, da fare le acrobazie con gli schermi piccoli. Ecco, diciamo che la fascia gialla, ecco, bianco forse sta qua, è quella ideale. Il mio obiettivo, quindi, è trasformare più possibile in giallo la mia mappa. Ora, ovviamente, anche questa andrà basata, andrà normalizzata, permettetemi il termine, anche se non è perfettamente corretto. Andrà comunque scalata, secondo un minimo e un massimo, da ritrovare all'interno dei vostri valori, delle vostre mappe, in modo tale da avere una lettura rapida, a colpo d'occhio, dei colori, una volta messi a confronto le due, le due mappe. Ok, tutto quanto, quello che ci dovevamo dire, più o meno ce lo siamo detti. se avete delle domande, delle perplessità, anche rispetto a quello che avete già potuto fare, io vi faccio questa domanda, so benissimo per porta maggiore a che livello state. Gli altri, invece, hanno mandato un running, non è andato a buon fine. Cos'è successo? Potete aggiornarmi? Tutto bene? Che significa tutto bene? Quindi tu riesci a portare, a estrarre adesso una mappa, tu e tutti gli altri che l'hanno fatto, senza avere problemi, questo è importante da capire. Quindi tutti quanti vedete gli orari qua, quando li andate a caricare, giusto? Non sono grigi, sono sempre colorati. Ok, un'ottima notizia, abbiamo tutti i computer che funzionano quest'anno, o comunque non ancora sappiamo per certo del contrario, e abbiamo San Lorenzo, quindi con queste ottime notizie, so benissimo, ripeto, la condizione di porta maggiore, mi manca Castro Pretorio, Castro Pretorio, a che punto stiamo? Abbiamo almeno il modello, non vi chiedo, ragazzi, questo non è, è solo per capire, non vi sto, non vi devo fare nessuna lavata di capo, quindi non vi preoccupate. A breve lanciamo il running? Ok, il check vi ricordo all'interno di, qua, il check all'interno di Spaces, del modello Spector, è verde per entrambi i dati? L'hai provato stamattina? Perfetto, allora non lo faccio neanche ripartire, che altro ci dobbiamo dire? Avete voi delle domande da pormi? No? Tutto chiaro? Spero? Nel caso, ragazzi, io vi dico, sto un altro po' qua, quindi se mi volete far vedere un modello, avete qualsiasi domanda, ecco, già vedo la manuna di Filippo, che mi chiama, mi cerca, io sono qua, fino a una certa, e niente, per questa volta è tutto.